Novena alla Madonna Adolorata Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di dolori, il crocifisso è con te. Adolorata sei tu fra le done, e adolorato è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre del Crocifisso, ottieni lacrime di compunzione, a noi, crocifissori del Figlio tuo, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terzo giorno In Egitto È motivo di sofferenza vivere in altra nazione, dove mancano i conoscenti, dove non si conosce il linguaggio, e dove ci sono altri usi e costumi. La Madonna per diversi anni visse così in Egitto. Quando ormai si era ambientata, dovette lasciare l'Egitto e ritornare in Palestina. Il cuore delicato della Vergine Santissima non poteva restare indifferente a tutto ciò, ma soffriva in silenzio, ed offriva tutto con generosità ed amore a Dio. Ave Maria, piena di dolori, il crocifisso è con te. Adolorata sei tu fra le done, e adolorato è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre del Crocifisso, ottieni lacrime di compunzione, a noi, crocifissori del Figlio tuo, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen Madonna adolorata, prega per noi